Buongiorno a tutti, sono Michele Luccioni, direttore Sales & Delivery di Reti. Lavoro nell'ambito della consulenza da più di 15 anni e il mio lavoro è supportare le aziende nei processi di digital transformation. In questo evento vedremo quella che è la relazione tra customer journey e dati. Vedremo due aspetti fondamentali, l'analisi di quello che è il cliente e degli attributi del cliente per qualificarlo e lo studio di quelli che sono nuovi modelli di comunicazione verso il cliente. Tutto questo tramite l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e di servizi cognitivi. Vedremo quindi tre aspetti fondamentali. Il primo aspetto riguarda quello che è l'analisi del cliente e dell'azienda per ridurre quello che è la distanza tra cliente ed azienda. Il secondo aspetto riguarda quello che è la creazione di nuovi modelli di comunicazioni tramite l'utilizzo dei sistemi cognitivi, ad esempio il chatbot. E l'ultimo aspetto invece riguarda l'utilizzo della digital transformation come strumento abilitante per creare nuovi modelli di business. Vi aspetto quindi il 14 novembre presso il Campus Reti per l'evento AIS. Buona giornata a tutti!